Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti e ben ritrovati per quanto mi riguarda per la rassegna stampa del sabato che chiude la settimana. Sono le 7.30, siamo in diretta come tutte le mattine, i giornali sono pronti e anche le previsioni del tempo, però prima guardiamo il Santo del Giorno, l'Almanacco, guardiamo oggi sabato 11 giugno San Barnaba Apostolo, il sole è sorto alle 5.25 ed è tramonterà alle 20.51. Alle 20.51 quindi cala il sole, vediamo le previsioni del tempo per questo fine settimana, l'inizio della settimana prossima, per oggi come vedete parzialmente nuvoloso, nuvoloso al mattino con copertura in intensificazione nelle ore centrali della giornata, locali rovesci, temporali pomeridiani più probabili nel settore collinare e costiero della regione, però vedete nella simbologia la nostra provincia, la provincia di Pesero è segnalato come nuvoloso ma la pioggia non compare, speriamo che ci risparmi, invece domani, domenica anche qui la pioggia invece è su tutta la regione, cielo generalmente nuvoloso, addensamenti più consistenti nella tarda mattinata e nelle ore pomeridiane, precipitazioni rovesci e temporali sparsi più probabili a partire dalla tarda mattinata. Quindi insomma dalla metà della mattina in poi dovrebbero comparire le piogge. Vediamo come si presenta all'inizio della settimana prossima, anche qui lo schema è il medesimo di domenica, nuvoloso in mattinata, possibili schiarite però nella seconda parte della giornata, probabili rovesci sparsi più abbondanti nel settore collinare e costiero della regione. Nella serata attenuazione dei fenomeni e quindi insomma le temperature sono stazionarie e in lieve diminuzione. Qual è la tendenza per i giorni successivi? Sulle marche potranno permanere condizioni di variabilità atmosferica con temperature in lieve ripresa. Quindi per l'inizio della prossima settimana come si era detto nei giorni scorsi, da martedì in poi insomma dovrebbe migliorare un po'. Per il tanto ci manteniamo sempre su questa instabilità. Allora, nei giornali, notizia comune a tutti, il maltempo, quello che è successo a Marotta e anche in parte al Cesano, quindi a Senigallia, tutti quanti i quotidiani riportano sia in cronaca locale che in cronaca nazionale che cosa è avvenuto nella notte appunto di sabato. Allora, vediamo subito, guardiamolo, questo è il resto del Carlino. Un inferno, un inferno, ore di angoscia. Dalle 22 e 30 si è scatenata nella notte appunto tra giovedì e venerdì. Si è scatenato il putiferio e vedete nelle foto eloquenti immagini dimostrano quanto è accaduto. Un diluvio universale si abbatte su Marotta, fango, danni e paura. Il comune chiederà lo stato di calamità naturale e vedete qui appunto l'incubo che hanno vissuto gli abitanti di quella zona e le immagini valgono più di mille parole. Anche nel Corriere Adriatico la notizia viene riportata nella pagina di Fano e della Val Cesano. Diluvio su Marotta, una notte da incubo, l'acqua nelle strade ha superato il mezzo metro di altezza. Il sindaco appunto, che lo vedete ritratto nella foto del COC, Nicola Barbieri, con una cerata addosso, ha seguito fin dalle prime ore l'evoluzione della situazione. Chiederò appunto lo stato di calamità naturale, anche qui garage. Praticamente questa è una foto davanti alla stazione di Marotta, sembra un fiume anziché una strada nazionale. La zona più colpita è quella di via Ferrari, via l'Europa, appunto la zona via delle regioni e le strade limitrofe e anche la statale adriatica. Chiuse le scuole dell'infanzia, campus e di via Betti, gravi danni all'asilo nido privato, piccoli passi. Vi faccio vedere anche la pagina che riguarda questo avvenimento del messaggero. Marotta, notte da incubo, una bomba d'acqua, diciamo così, bomba d'acqua, ora è stato sdoganato questo tema, ma sono i nubri fragili, acquazioni estivi che negli ultimi anni si sono sicuramente intensificati. Però, insomma, rende l'idea allagate strade, abitazioni, automobilisti anche rimasti in trappola nei pressi del casello autostradale, sottopassi e i vigili del fuoco in azione hanno salvato tante di queste persone. Danni ingenti a casi, attività commerciali, chiuse due scuole. L'allarme è scattato alle 22 dell'altra sera, mobilitati, protezione civile, volontari e forze dell'ordine per naturalmente prestare subito i primi soccorsi. Allora, rimaniamo nel quotidiano bolognese, partiamo con la pagina di apertura del Carlino Pesaro, appunto, fotonotizia centrale, disastro a Marotta. Qui tutte le masserizie che erano nei locali allagati, vedete, riportate in strada, appunto, per sgombrare i garage. Però si parla anche di lavoro. Dopo la crisi siamo davvero a terra. L'allarme della CGL, la peggior provincia del centro nord per il lavoro, ma le aziende ci provano a risalire la china della crisi. E poi la fiction su Lucia Nibali andrà in onda sulla RAI nel giorno dell'anti-violenza, il 25 e il 26 novembre prossimi. E poi una bimba di due anni cade, ed è grave, era col nonno in una ditta, è stata trasferita con l'eliambulanza. Eccola qua, la pagina del Carlino, la pagina 3, dove si parla di questo morso della crisi che ha costretto tante aziende a licenziare, e quindi sono sul fronte dell'occupazione. Ci sono gravi ripercussioni, un territorio in grave declino, diminuzione molto accentuata dalle imprese attive, di conseguenza dei posti di lavoro grave, il crollo anche nella fascia di età, dai 25 ai 34 anni. Classifica degli ultimi, degli uti aziendali, nella classifica degli uti aziendali, prima è la BS, seguita da Benelli Armi e dalla Scavolini, i valori naturalmente riguardano il 2014. Peggio di noi, quasi nessuno, dice Simona Ricci della CGL, reazione limitata, il manufatturiero è in parte ripartito, ma senza poter ricreare nuovi posti di lavoro. Quindi, insomma, l'economia, i fatturati riprendono, però ancora non c'è la possibilità di reintegrare forze lavoro nelle aziende, anche se c'è la ripresa, almeno i primi segnali di ripresa. Bimba di due anni cade dal furgone, è gravissima, l'avete letto nel lancio della prima pagina, ancora da accertare come si è potuto accadere, era insieme al nonno l'ambulanza a terra, a Rio Salso. Nella pagina di Fano del resto del Carlino, in testa di pagina, si parla dell'incontro che si è tenuto ieri nel Teatro della Fortuna, nella Sala Verdi, con Luca Ceriscioli, un incontro organizzato dal Partito Democratico, alla presenza di tanti operatori sanitari, molti primari, alcuni cittadini sono riusciti a entrare nella Sala Verdi, gli altri sono rimasti fuori con un autoperlante, hanno seguito quanto avveniva nella Sala Verdi, e qui riportate un po' di quello che è avvenuto in questo incontro che è durato fino a tardanotte, fino a mezzanotte inoltrata, anche perché ci sono stati molti interventi, 13 interventi dopo le parole di Luca Ceriscioli. Ancora però da sciogliere il nodo di dove si farà questo ospedale, ancora non è stato svelato, si porterà avanti la concertazione, questo è quanto almeno avvenuto, letto nelle parole di Ceriscioli ieri nell'incontro. Si parla del Battisti anche nella pagina del resto del Carlino, scende in campo nuovamente Carloni che si batte per l'autonomia dell'istituto, crociata a difesa del Battisti, polemiche dopo la decisione di non concedere un corso serale e quindi in questo modo si abbatte l'asticella e si scende sotto le 600 iscrizioni. Si parla di Passaggi Festival nelle pagine di Fano che era stato ventilato già altre volte, questa evenienza, adesso c'è un nero su bianco, arriva la lettera d'addio all'amministrazione comunale, Passaggi Festival lascerà la città. Perché? Perché ancora non è stato risolto il problema di risorse, di reperire risorse adeguate e quindi questa sarà probabilmente l'ultima edizione di Passaggi Festival a Fano. E poi di spalla qui ecco il nuovo consiglio dell'ente, si parla di Carnevalesca, quindi riportati appunto tutti i nomi del consiglio dell'ente così importante per Fano. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico a Pesaro, si parla di Cronaca, di un'importante azione dei carabinieri, profumi contraffatti e banconote false, arrestati a gabice due truffatori, i pezzi da 10 euro erano riprodotti con grande perizia. Vedete qui tutta la rifurtiva e le banconote false recuperate. Si tratta di due ragazzi di 23 anni di origine napoletana, che avevano piazzato sia il denaro che la merce. Ancora si parla di non solo fiction, ma realtà. Nelle cronache nazionali le abbiamo sentite in questi giorni, diversi episodi di violenza contro le donne, di femminicidi, insomma, e quindi è un'escalation che preoccupa molto e parlano tre donne, tre assessore, la Mengucci, Giuliana Ceccarelli e la consigliera Cristina Amadori, che lanciano un appello, scrivono nero su bianco e dicono, dopo una lunga disamina di quanto è avvenuto nella cronaca in questi ultimi periodi, i femminicidi sono fatti programmati lucidamente, bisogna incidere sulle coscienze contro la violenza di genere, bisogna istituire delle politiche culturali. E poi, in taglio centrale, il calvario di Donatella a Mercatino Conca, il pestaggio con un martello massacrata, appunto con un martello, ieri la donna sottoposta alla prima operazione shock del sindaco di Mercatino Conca. Nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico si parla delle opere che hanno fatto sì che non ci siano stati danni per le piogge a Rio Crinaccio e quindi le opere di contenimento funzionano. Fano esce indenne dalla bomba d'acqua, Seri dice grazie agli interventi appunto per il Rio Crinaccio. E poi si parla dei fanghi e del dragaggio che non andranno più ad Ancona, il Comune revoca la gara per l'affidamento del servizio di trasporto del materiale ora stoccato a Torrette. Ancora nel Corriere Adriatico, questa era la pagina che riguardava appunto la bomba d'acqua. Ecco, vi volevo aprire questa perché anche Senigallia è stata toccata, la zona del Cesano, da questo appunto diluvio che si è abbattuto in questa zona ed è uscito fuori anche lì le acque da un fosso che è otturato. Era otturato e dice fosso otturato qualcuno deve pagare, sono i residenti del Cesano che puntano il dito contro le canne appunto. del fosso del tronco, l'esondazione, così si chiama questo fosso perché è tutto ostruito dai cannici, dalle canne, non ha trovato sfogo verso il mare ed è esondato allagando anche qui, come vedete, garage, abitazioni, macchine completamente affogate nei garage, strade chiuse, sopra luogo del sindaco che assicura aiuti, lo vedete qui nella foto, il sindaco Mangialardi, per gli aiuti per chi ha subito questi gravi danni e quindi gli abitanti, vedete qui Alessandro Violoni e Giorgio Paniconi dicono il fosso era otturato da queste canne, gli operai le hanno rimosse ieri mattina ma insomma il fosso all'altezza della statale ha fatto da tappo e l'acqua non è defluita verso il mare. Il messaggero, la pagina di apertura dell'inserto di Pesaro, Lucia, un esempio per tutti, si parla appunto della fiction che andrà in onda il 25 di novembre, la giornata contro la violenza sulle donne anche qui Marotta allagata nella fotonotizia, l'eloquente immagine dell'altra sera della zona della stazione e poi cade dal furgone mentre gioca grave un bimbo di due anni. Ecco, insomma il sindaco Ricci dice una testimonianza che può aiutare la gente e la Capotondi, la cristiana Capotondi che interpreta Lucia Annibia e dice solo qui si poteva far rivivere la vicenda di questa persona così coraggiosa, un grande effetto su di me, la sua storia e insomma sembra veramente non casuale il fatto che proprio in questo momento così preoccupante dal punto di vista dei femminicidi, della violenza sulle donne si giri questa fiction. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Fano del messaggero e il sindaco dice quando sarà a posto la foce costruiremo un altro sottopasso tolti intanto i bivacchi notturni in via dello squero. I lavori anti alluvione reggono all'emergenza e poi la lotta all'erosione. In autunno riparte la posa delle scogliere tra Sassonia e Baia Metauro. E poi spunta un'altra location per il nuovo ospedale, si parla dell'Arzilla, un comitato sostiene l'idea, la proposta di seri alternativa a quella della regione, trova subito il pieno appoggio di un gruppo. E poi è presentato anche il programma della BCC Arena che arriva fino ai primi di settembre con tanti eventi, tanti momenti di musica, di risate, un teatro all'aperto che sta crescendo anno per anno e ha presentato il suo programma. È in gara naturalmente, come sempre ormai avviene in tradizione in quel luogo la gara dei barzellettieri. Bene, grazie per essere stati con noi per quest'ultima rassegna stampa della settimana. Occhio ai giornali, torna lunedì mattina puntuale alle 7.30. Grazie e buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.